segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te interpello poi dottor rognansky franco bernabè allora sa che c'è una polemica per le presunte ingerenze della propaganda russa nell'informazione italiana dall'intervista al ministro degli esteri russo lavrov su rete 4 alla presenza di giornalisti filo putin nei programmi di approfondimento giornalistico secondo lei i nostri media fanno troppa propaganda russa io credo che non bisogna che ci prendiamo in giro non credo proprio che il problema sia i media siano i media siano le interviste a presunti giornalisti russi ma è l'interferenza che la russia esercitato sul sistema politico occidentale nel corso di questi anni interferenza nel sistema politico americano per le elezioni nel sistema politico europeo comprando politici comprando interi partiti influenzando l'opinione pubblica in vari modi quindi io credo che sia del tutto legittimo che il copa si riguardi a come la gru eh l'fsb i servizi di contro intelligence russi hanno cercato di sabotare la democrazia nel nostro paese quindi io credo che sia del tutto legittimo e tutta questa polemica sui giornalisti io la trovo completamente ridicola e chi sono i politici comprati dai russi in italia questo lo accerteranno chi lo dovrà accertare ma certamente un sistema è un sistema corrotto che usa la corruzione e come strumento politico ecco io credo che non ha avuto difficoltà a trovare terreno fertile nelle settori più deboli e più esposti di una certa classe politica ma vede qualche connessione col fatto che la maggioranza di draghi stia un po diciamo sia in tensione ecco non dico che stia scricchiolando perché due forze politiche come la lega di salvini e i cinque stelle di conte cominciano a smarcarsi cominciano a fare il distinguo cominciano a dire non dobbiamo continuare a inviare più armi perché più armi significa più guerra e sono anche le due forze soprattutto la lega di salvini accusata di essere diciamo troppo vicina alla russia di punta guardi sulla questione delle armi io credo che l'europa deve fare una riflessione su quello che è avvenuto in siria dove la russia esercitato esattamente lo stesso tipo di tecnica distruggendo città storiche di grandissimo pregio come aleppo e senza che l'europa e senza che la nato muovessero ciglio è esattamente quello che stanno facendo in ucraina in questo momento quindi io credo che sia non solo legittimo sia doveroso così come è stato dopo alla fine della seconda guerra mondiale che vengano sostenute la resistenza ucraina e chiunque voglia difendere la propria patria e devo dire che da questo punto di vista gli stati uniti hanno preso un grosso abbaglio all'inizio perché erano pronti a evacuare zelensky e il suo gruppo ed è stata solo l'eroica resistenza del popolo ucraino che ha indotto gli stessi stati uniti a cambiare atteggiamento nei confronti del sostegno all'ucraina ma lei non teme un escalation della guerra perché la nato contrariamente alla siria non credo anche in modo massiccio non credo guardi una cosa che ha insegnato questa guerra è che un paese corrotto non può avere un esercito integro ed efficiente ed è questo che sta succedendo la dimostrazione incredibile della capacità di resistenza del popolo ucraino nei confronti di quella che si pensava essere l'esercito convenzionale più forte del mondo dimostra che un paese non democratico e corrotto non può vincere la guerra è così massimo Grazie a tutti